FIOM, CGL, tempo di riportare in mani pubbliche la politica industriale del Paese. Passata la sbornia per i circa 3 miliardi di investimenti annunciati con enfasi nell'ultimo convegno Sostenibilità e Transizione Energetica tra Mito e Realtà, celebrata a Siracusa il 18 novembre scorso da Confindustria a Siracusa, la realtà mostra ancora una volta il vuoto pneumatico che caratterizza la politica sistema industriale del nostro territorio. Un territorio che ha delegato per decenni alla politica le imprese, scelte e indirizzi che oggi evidenziano il declino in cui versa la nostra zona industriale. La Lucoil fuori, come dice Caffeo, dall'investimento di 1 miliardo e 800 milioni per la realizzazione del termovalorizzatore e come se non bastasse i progetti per accedere ai fondi del PNRR presentati dai gruppi petrolchimici sarebbero stati tutti bocciati con il rischio di vedere smobilitare tutta la filiera della raffinazione su cui ha retto gran parte dell'economia provinciale e regionale. Occorre però con responsabilità e coraggio rompere il velo di ipocrisia di un sistema politico che ha sostenuto e sostiene i profitti del privato e allo stesso tempo cerca di massimizzare la socializzazione delle perdite e dei relativi costi sociali che pesano sulla ristrutturazione industriale. L'estrema gravità di questa situazione non sembrava fino a questo momento essere stata percepita dalla politica e da un sistema industriale figlio di un modello che spingendo sulla massimizzazione del profitto scaricando all'esterno i costi ambientali e sociali ha consentito alle grandi imprese multinazionali di aumentare anche in questa fase di pandemia i propri guadagni. Il petrolchimico di Priolo in questo senso rappresenta uno spaccato esemplare di questo sistema industriale non riformabile che oggi invoca come soluzione la costituzione dell'area di crisi complessa con l'intento di ammortizzare i costi sociali dei licenziamenti e della mancata transizione energetica. Non c'è più tempo o si realizza un piano strategico di bonifica, si programma la riconversione e lo sviluppo eco-compatibile del polo petrolchimico oppure Priolo precipiterà nell'oblio che segna la scomparsa dell'industria con tutto il peso di un dramma ambientale, economico e sociale. Gli appalti oggi rappresentano l'espressione massima della frantumazione del lavoro e dei suoi diritti. Occorre una mobilitazione dei lavoratori per affermare la centralità del lavoro stabile e di qualità che dia valore alle competenze e alle professionalità. Con l'avvicinarsi del 2035 il processo di transizione energetico rischia di impattare drammaticamente sui lavoratori degli appalti e noi saremo ancora con tutto il nostro realismo a difendere i lavoratori e il lavoro perché ora è tempo di riportare in mani pubbliche la politica industriale del Paese perché coniugare lavoro e ambiente si può e si deve. Lo dichiara Antonio Recano della FIOM CGL Siracusa.